Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi torniamo su World of Warcraft con forse il primo video informativo che facciamo qui sul canale oltre ai gameplay. Come sapete WoW ci ha preso parecchio nelle ultime settimane e mesi e quindi stiamo aspettando con ansia l'arrivo della patch 9.1 e l'espansione delle catene del dominio. In questo video vi vado a spiegare cosa sta per arrivare con la nuova espansione e se magari per qualcuno di voi è il caso di tornare a giocare. Prima di partire mi scuso per il footage che state guardando, il PTR purtroppo io non l'ho provato quindi quello che vedete è ancora contenuto di Shadowlands e non quello nuovo appunto della prossima patch. Allora come prima cosa ovviamente con le catene del dominio andremo avanti con la campagna iniziata con Shadowlands e quindi dovremo vedercela con i nuovi piani del carceriere che ci farà esplorare anche una nuova zona della fauce con nuovi venditori, nuove reputazioni da grindare, ci saranno ovviamente nuove quest giornaliere da poter fare per guadagnare reputazione e fama con le nostre congreghe, anche nuove minigame e anche delle nuove cacce al tesoro che dovrebbero anche essere buone per trovare nuovo gear per salire di item level. All'interno della nuova zona della fauce chiamata Cortia ci sarà la possibilità anche di partecipare agli assalti delle congreghe, due volte a settimana ci sarà la possibilità di partecipare a questi assalti all'interno di Cortia, ogni assalto sarà guidato da una congrega aiutata da una seconda congrega e saranno tutte a rotazione. Entrambe avranno la possibilità di farci completare 4 o 9 missioni ogni settimana, completando queste missioni e portando a termine l'assalto riceveremo reputazione per la fazione al comando durante l'assalto, per la seconda che aiuta e per una nuova reputazione che si chiamerà Marcia della Morte. Facendo questi assalti riceveremo anche ricompense in stigia, la valuta della fauce e le braci dell'anima, valuta che serve per potenziare o craftare i nostri leggendari. La cassa può anche contenere oggetti per aumentare di item level, cavalcature o materiali. Rimaniamo un attimo nella fauce perché cambierà anche il modo di visitare la zona appunto arrivata con Shadowlands, in primis finalmente dopo aver fatto una breve missione potremo finalmente utilizzare le nostre cavalcature al suo interno. Sicuramente uno dei malus di questa zona durante Shadowlands era proprio non riuscire ad andare ad un'andatura decente, tra virgolette. In più ci sarà anche la possibilità di accecare l'occhio del carceriere e togliere tutti i malus che aumentavano stando nella fauce e facendo le sue missioni, e quindi potremo rimanere più a lungo senza aumentarne i pericoli. Sempre nella fauce ci sarà un nuovo evento chiamato i Tormentatori di Torghast. Per stanarli bisognerà uccidere i servitori giurafauce che dopo un po' riveleranno la posizione di questi tormenti. Tormenti che se sconfitti ci daranno come loot uno scrigno contenente braci dell'anima, ma anche potenti pezzi di equipaggiamento per salire di item level. In più una cosa molto interessante sarà proprio l'equipe che si potrà trovare dentro Cortia, perché grazie alla sua reputazione questo set di armature si potrà portare fino ad un massimo di 233, che è il livello al quale dropperà il raid in modalità normale, e quindi poco sotto quello in versione eroica. Quindi insomma abbastanza alto per essere una cosa che potrà essere fatta eventualmente anche in solitaria. Nel mentre, come dicevo, ci sarà da portare avanti anche la campagna della congrega, con nuovi capitoli diversi per ogni congrega che, come detto, si concentrerà sulla storia del carceriere. Come su Shadowlands la campagna dovrà andare di pari passo con la vostra fama della congrega, ma con le nuove missioni presenti nella nuova zona non dovrebbe essere un problema salire di fama. All'interno di Shadowlands finalmente si potrà volare, e per farlo non dovremmo fare altro che andare avanti con la campagna principale e fare qualche piccolo step, e dopo un po' saremo in grado di utilizzare le nostre mount volanti e spostarsi in maniera molto più facile all'interno del mondo di gioco di Shadowlands per fare quest o per raggiungere i dungeon. Veniamo ora a Torgast, Torgast che è la fonte della nostra cenere d'anima durante tutta Shadowlands, cambierà abbastanza durante le catene del dominio, a partire dal sistema di punteggio. Non basterà portarla a termine ora a Torgast per ricevere il nostro loot, ma dovremo fare in modo di portarla a termine completandola al meglio, e cioè uccidendo più mob possibili, quindi non sarà solo una gara a chi finisce prima, ma più cose si faranno al suo interno, come aprire casse, uccidere mob appunto, fare le mini quest o aprire le giare eccetera eccetera, ci farà guadagnare punti per ricevere da 1 a 5 stelle alla fine, il che ci permetterà eventualmente anche di aprire un ulteriore piano bonus, e in più ci sarà anche una nuova serie di talenti da sbloccare per le nostre run. Inoltre Torgast comunque in ogni caso rimarrà la sorgente principale della nuova valuta d'anima, che servirà per craftare i nostri leggendari a livello 5 e a livello 6, quindi oltre il potere massimo attuale. Quindi è una cosa che appunto, se ci tenete a potenziare il vostro equipaggiamento leggendario, dovrete per forza fare. Veniamo ora ai dungeon, perché quelli di Shadowlands rimarranno ovviamente all'interno della rotazione delle Mythic Plus, di cui parleremo tra un momento, ma con le catene del dominio arriverà un nuovo mega dungeon, il bazar celato di Oribos, chiamato Tazavesh, mega dungeon perché al suo interno ci saranno ben 8 boss, ed essendo così, particolare, insomma, non sarà presente come detto all'interno della playlist delle Mythic Plus. Questo dungeon infatti si potrà fare al massimo in difficoltà mitica, che sarà comunque una bella sfida, soprattutto per via delle meccaniche che sembrano essere veramente molto, ma molto interessanti. È come se fosse una specie di ride in miniatura adattato a 5 giocatori. Abbiamo accenato le Mythic Plus prima, uno dei contenuti che personalmente mi piacciono di più e che ho giocato di più durante l'ultima stagione. Con la stagione 2, con le catene del dominio, ci saranno dei cambiamenti a questa modalità. In primis il Prideful non sarà più presente dalle 10 in poi, ma saranno presenti dei mini boss, appunto i tormenti, in dei punti critici dei dungeon che saranno in grado di darci dei buff. Buff che saranno molto simili a quelli che sono all'interno di Torghast, quindi si potrà scegliere, a differenza del Prideful, una volta sconfitto il mini boss, cosa usare da lì in avanti. Fare questi mini boss ci permetterà di facilitare anche il boss finale, che si potenzierà se invece lasceremo i mini boss vivi in giro per la mappa. Anche il punteggio delle Mythic Plus cambierà. All'interno del gioco verrà implementato quello che faceva Raiderio all'esterno. In base a quante mitiche e in che modo le completeremo, guadagneremo un tot di punteggio che rifletterà la nostra capacità, diciamo così. Anche completare il Keystone Master sarà differente, non basterà chiudere tutti i dungeon con le chiavi a più 15, ma bisognerà farle praticamente due volte. Una con il modificatore del Tyrannical, quindi quello dove i boss sono più forti e hanno più vita, e l'altro con il modificatore del Fortified, dove invece saranno i mob normali ad essere più pericolosi. Quindi anche qui la strada sarà leggermente diversa e forse più complessa. Naturalmente qui si potrebbe scendere ancora di più nel dettaglio, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete magari un focus più preciso appunto sulle Mythic Plus. Ovviamente con la nuova espansione arriverà anche un nuovo ride, il Sanctum del Dominio, un ride che sembra particolarmente interessante, detto da chi l'ha provato sul PTR, e che ovviamente sarà un'ottima fonte di loot. Il ride sarà composto da bene 10 boss, tutti a loro modo particolari e unici in termini di meccaniche. All'interno del ride ci sarà anche un loot unico, chiamato Schegge del Dominio. Queste Schegge saranno dei socket che si potranno mettere all'interno dell'equipaggiamento, ma solo quello droppato all'interno del ride. E ce ne saranno di tre tipi diversi, ed ogni tipo darà un bonus diverso. In più si potranno fare delle combinazioni e ricevere bonus in più, anche indossando Schegge dello stesso elemento. Quindi insomma è un sistema molto, ma molto particolare e complesso. E sì, certo, questo nuovo sistema è stato messo solo all'interno del ride, però è anche un modo, tra virgolette, per rendere esclusivo quello che si può trovare dentro uno dei contenuti più complessi del gioco, e quindi secondo me ci sta. Poi eventualmente di questo nuovo sistema, visto che appunto, come vi dicevo, è leggermente complesso, ne potremo parlare in modo più chiaro e approfondito in futuro. Se vi va, e appunto se lo ritenete opportuno. Insomma, sembra che la 9.1 e le catene del dominio diano parecchio da fare a tutti i tipi di giocatori, il che è sicuramente un bene, sia i solitari con la parte di campagna e di congrega, che ci permetterà di arrivare anche particolarmente alti di potere, il nuovo sistema delle mitiche, il nuovo ride, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, penso che per quelli di voi indecisi se rinnovare o meno l'abbonamento sia un buon momento per tornare a dare un'occhiata, perché sulla carta sembra esserci davvero tanta, tanta roba da fare. Bene, quindi questa era una piccola panoramica introduttiva di quello che ci aspetta con la nuova espansione. Come vi dicevo, naturalmente potremo entrare nel dettaglio di tantissime cose e per il momento ho deciso di, insomma, spiegarvi così in grandi linee quello che sta per arrivare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ve ne pare, se tornerete a fare un giro oppure no, e se sì, che cosa vi interessa di più vedere dei nuovi contenuti. Io, come sempre, vi ringrazio di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!